Lunedì prossimo alle 20.30 Pescara Pineto diretta in chiaro su Rete8 con ampio pregare a partire dalle 19.30. Baldini potrebbe condizionale d'obbligo confermare in blocco l'undici che ha travolto e la Milan Futuro, ma attenzione ai diffidati, ne sono cinque, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Squizzato e De Marco. In realtà dopo l'ottima prestazione di giovedì scorso non ci sarebbe motivo di cambiare. Curiosità, Pescara sempre più cooperativa del gol, in totale 23 reti con 12 marcatori diversi. L'ultimo Pierozzi che ha sbloccato la sfida col Milan Futuro. Il terzino destro non segnava dallo scorso 30 marzo Cesena Pescara 1-0, rete dell'aritmetica promozione in B dei Romagnoli. Dato senza dubbio interessante, nel contempo da sottolineare non spicca il classico Bomber, il più prolifico è Ferraris, non certo un titolare con tre reti, ma tutti sono coinvolti. Squadra nel vero senso del termine. Nel dettaglio, Ternana Pescara 1-2, Bentivegna e D'Agasso, Pescara-Torres 2-2, marcatori Ferraris e Cangiano, Entella Pescara 0-1, match winner Luca Valzania, Pescara-Carpi 2-1, gol di De Marco e Brosco, Ascoli-Pescara 1-2, rete di Vergani, Lucchese-Pescara 1-3, Merola e Tonin entrambi sul rigore, Pescara-Sestri-Levante, match winner Tuniov, Pescara-Milan-Futuro, all'ottavo minuto Pierozzi. Altra novità, i Biancazzurri prima d'ora non avevano mai segnato nei primi dieci minuti di gioco.